Vedo un terremoto che sta per arrivare a questo paese e sarà un terremoto terribile, veramente scioccante che sta per arrivare in questo paese quel terremoto è un terremoto terribile vedo che sta avvenendo in questo paese il Signore mi ha messo in un posto e vide il campo verde che si vede in questa nazione e poi la terra si aprò e ha ingoiato l'altra parte vedo un terremoto che sta per arrivare in Italia l'ultima due volte quel terremoto si sono venuto ad impiuti vedo la comunità dinanzi a me sembra una comunità è un campo come una comunità e la terra si aprì e la terra ha ingoiato quella comunità quindi veramente quella terra va sotto così e l'altra comunità che si trova dall'altra parte viene per coprire quella comunità che è stata appena ingoiata voglio ripetere di nuovo vedo un terremoto che sta per arrivare in Italia e il Signore sta chiedendo un ravvedimento 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 dal peccato ravvedimento dal cattolicismo so that you may prepare for the coming of the Messiah così possiamo preparare per il ritorno del Messiah I see a community in front of me vedo una comunità dinanzi a me and the earth opens up e la terra si aprì and they are swallowed in e poi la terra ingoiò quella comunità davanti ingoiò quindi vengono ingoiati e l'altra comunità davanti viene lì per chiudere quella comunità che è stata appena ingoiata quindi i pastori hanno una responsabilità per chiamare un ravvedimento nazionale la terra ingoiò la terra ingoiò e l'altra comunità